Bene, benvenuti, siamo al secondo incontro di uso di Mozilla Hubs in questo incontro volevo farvi vedere come organizzare una mostra di quadri o di immagini utilizzando Mozilla Hubs il primo step è quello di individuare delle foto di quadri ovviamente per l'argomento che non interessa e nel caso specifico, facendo alcune ricerche su internet ho trovato un archivio, ma fra tanti ce ne sono parecchi in cui la National Gallery of Art di New York, credo distribuisce 45.000 immagini ad accesso libero, free access ecco, questo è importante quando si cercano delle immagini da usare su internet di utilizzare delle immagini che siano predisposte per essere usate senza dover pagare dei diritti oppure peggio, senza infrangere la legge quindi noi in questo momento vedete che abbiamo queste immagini che sono libere per lo scarico e anche lo share in realtà la condizione che loro dicono è che bisogna soltanto dire su quale courtesy of National Gallery of Art ecco, quindi noi avendo selezionato un insieme di immagini queste immagini, queste sono immagini ad altissima risoluzione ma per i fini di Mozilla Hubs noi interessano le immagini a bassa risoluzione perché un'immagine ad alta risoluzione risulterebbe troppo pesante per il nostro scopo quindi noi ci incontentiamo di salvare le immagini queste, diciamo, le preview perché le preview hanno una grandezza accettabile quindi prendiamo, facciamo siamo andati, abbiamo fatto una ricerca che vi ho saltato per cercare delle collezioni ho individuato una serie di immagini ad esempio questo è un cane questo è un cane fatto da Cornelis Safleven olandese, eccetera, eccetera e quindi facciamo save image e ci salviamo l'immagine e queste immagini sono immagini tendenzialmente, credo, jpeg quindi ce le salviamo come jpeg l'avevo già salvato prima e ne prendiamo due o tre di queste immagini ok, quindi passiamo a quest'altra e salviamo anche queste immagini save image as e quindi abbiamo questa qua, la 9319 punto jpeg la mettiamo noi jpeg è un formato molto noto e prendiamo la terza immagine questo italiano, che è la trinità che è un disegno facciamo save image ok e questo qui jpeg anzi, forse conviene proprio visto che per evitare di confonderla di dargli un nome autentico tipo questo facciamo the trinity ok l'abbiamo chiamato the trinity che è questa torniamo alla questa che sarebbe il santo zenobbio quindi facciamo salva immagine as santo santo zenobbio punto jpeg e poi rifacciamo anche questo il primo cosa che era un cane quindi facciamo salva image as e lo chiamiamo cane punto jpeg jpeg non è detto che siamo veramente jpeg quindi per essere sicuri che lo siano dovete aprire le immagini queste detriti santo zenobbio e il cane e assicurare il tipo è quello che avete detto voi ma perché sia autenticamente garantito dovreste chiederglielo nelle proprietà scusate quindi andiamo proprio nelle proprietà del qua del tasto destro e qui se vi riconosce gli attributi nei dettagli vedete che vi dice gli autori eccetera eccetera quindi è garantito insomma che il dato è jpeg e dovrebbe essere coerente a questo punto vale quindi una volta raccolte queste informazioni e magari con un vi fate ancora un blocco note vi prendete vi copiate quindi vi preparate un po' quello che volete fare ad esempio questo qui è il cane quindi prendete ad esempio tutta questa dicitura del cane che non è venuta unganche bene però se no alternativamente potete fare un'immagine proprio di questo quindi lo magari lo ingrandite un pochino e gli fate un cartellino quindi io il cartellino questo qui lo faccio semplicemente premendo windows shift s che è un modo con windows 10 windows shift s per prendere dei pezzi per fare delle foto quindi faccio questa foto di questo di questo cartello vado qua ce l'ho catturato negli appunti quindi clicco sotto attenzione cliccando sotto mi compare qua cioè può compare esattamente quello che ho preso posso fare salva con nome e questo qui era il cane no? e il cane lo mettiamo anche questo sotto il mio download di prima sì perché lo carica in formato png quindi abbiamo in formato jpeg il quadro in formato png diciamo il pannello cane png poi facciamo la stessa cosa per gli altri due quindi ingrandiamo leggermente per poter andare sul santo zenobbio ripetiamo il procedimento shift windows s selezioniamo col mouse quindi andiamo qua clicchiamo e tenendo cliccato il mouse andiamo fino in fondo e questo diventa santo zenobbio quindi avendolo qua lo salviamo e lo salviamo come santo zenobbio santo zenobbio ok e poi infine lo facciamo anche per l'ultimo pezzo che era il trinità trinità shift windows e quindi abbiamo preso anche la trinità clicchiamo qua salviamo e quindi abbiamo trinità quindi è importante avere tutte queste informazioni in un posto facilmente raggiungibile quindi eventualmente una volta che l'avete raccolto prendete tutte queste immagini quindi sono sei in questo caso quindi una per il cartello e una per il pannello fate il per dire le tagliate e costruitevi da qualche parte una cartella questo ve lo raccomando quindi nuova cartella questa cartella facciamo mozilla hubs centrate dentro fate ctrl v e avete questa cosa qua quindi avete le vostre immaginine tutte messe per incisa ora una volta raccolta questo il primo video vi ho spiegato come scegliere delle immagini di dominio pubblico di queste immagini come prendere delle immagini che siano abbastanza piccole quindi vedete che sono complessivamente stiamo parlando di pochi kilobyte tenete conto che in mozilla hubs importantissimo che la somma totale di tutte le dimensioni non superi tanti mega quindi in questo caso noi siamo a posto perché qui abbiamo 15,50, 57,60 siamo su 200k quindi siamo abbondantemente sotto il mega se tutte le foto che stiamo raccogliendo quindi tra l'altro per sapere quanto stiamo di che cosa stiamo parlando basta che le selezioniamo tutte poi facciamo tasto destro e poi andiamo a questo punto nella proprietà e vediamo che siamo a 214k byte di di immagine quindi va benissimo ok allora nel prossimo video vediamo invece come prendere queste immagini e metterle in una stanza di mozilla hubs grazie a tutti